A pochi giorni dalla tragedia che ha colpito la questura di Bielle e la provincia intera, lo Stato ha risposto con tempestività. Il nuovo questore Claudio Cicimarra entra nel nostro territorio in punta di piedi, ma con la fermezza che impone il suo ruolo. Un curriculum di alto profilo che vede un'esperienza trentennale a Milano dove ha ricoperto vari incarichi. Il più longevo è stato quello di dirigente della Digos dal 2015 al 2020, periodo delicatissimo sul fronte del rischio di attacchi terroristici. Dopo la tragica scomparsa del questore Gianni Triolo arriva quindi un segnale forte alla comunità. Un modo per sottolineare la forte presenza dello Stato e delle istituzioni anche in questo momento così delicato. Cicimarra, nonostante l'ancora giovane età, ha già una brillante carriera alle spalle. Classe 1967, originario della Campania, nato a Salerno, ma napoletano nel cuore, così si è definito. Nel 2020 è arrivato nella nostra regione dopo la nomina a capo del compartimento di polizia ferroviaria Piemonte-Valle d'Aosta. Ora, per la prima volta alla guida di una questura, sono onorato e felice di essere arrivato a Biella, anche se in un momento così triste. Ho conosciuto la famiglia del questore Triolo al suo funerale, un'esperienza umanamente terribile. che inevitabilmente lascia al segno anche tutti gli agenti biellesi. Io sarò come impone il nostro principio fondante vicino a loro e a tutti i cittadini biellesi.